Cioè se io sono smurf, i miei compagni sono più forti per la passiva, giusto? Per questo gli smurf vincono tutti i game. Perché i miei bronzo saranno più forti degli altri di bronzi. Giusto o no? Forse c'è l'audio un po' bass. Me lo sentite voi? 30 secondi alla generazione dei Ninon. Votare no vuol dire che voglio donare in pratica? No! Le avevo spiegato raga. Sei generoso? No, io mi tengo i miei punti. Capito? Penso se avessi un minione di nazioni. Questo era il concetto. Hanno sindra di carry? Oh porca, io cosa ho messo nelle lune armor? No! Grazie Daniele! Grazie mille. Dico adesso, riuscirà Rapp a vincere? Ma adesso raga è un pronostico normale. Questo è un pronostico normale, la golic. Vota normale. Grazie per aver votato sul no. Bastardo. Il chat deve essere ancora più grande qua. Ma adesso bisogna piazzare la ward? Vabbè ragazzi. Potete già votare no. Ha fatto la Q all'indietro. Ha fatto la E mentre io facevo la mia Q e mi ha impedito di fare la E. Ma è già metà mana. Ha farmato 4 minion su... Madò raga. E' briaco questo. Eh, sto fuori, va faccio di più, guarda. Madò il mana! Il mana, Kate! Mana! Don't waste! E' iron 1 maestri 7 team. Oh porca. Perché questo si è abriacato dal capodanno raga. La gente che fa la partita su LOL a quest'ora o hanno dei problemi o sono streamer. Non so cosa devo dire. Cazzo sono! Hello Yurcic! Mi hanno pentato a coglioni, eh, magari. Dai! Auguri, auguri, grazie mille carissimo. Ho capito che qua... Maxo la Q. Non dirlo a nessuno, ma mi piacciono gli abbraccio. Questa, fermo immobile! Va bene, vieni. Speriamo che Ione si sfiddi e vado su di lui. Vinciamo il game. Grande, Samu. Ma questa trappolina... Questa trappolina... Raga, questo sta ubriachissimo, eh. Ma cosa sta pingando? Vabbè, titolo di questa live... Di questa partita... Gioco Yumi con... Con una Caitlyn ubriaca. Questa è la prima partita dell'anno. Che merda! Ma... Ma Caitlyn non si è contenuta, no? Ma che sta facendo, raga? Questa è bella che stiamo vincendo. Guarda, è fermo immobile ad autoattaccare. Non neanche si muove. E che sta vincendo. No! Ione non sta vincendo, purtroppo. Sono tutti matti. Sì, vabbè, Anagax, ma... Ce l'ha scritto in alto a sinistra il perché. Penitenza 20 sub, gioco Yumi. La gente che entra lo capirà. Speriamo. Ho fatto più danno io di Caitlyn ai campioni per ora. Vi dico solo questo. Vi dico solo che ho fatto più danno io di lei a questi qua. Come un allenamento. Lo mettiamo? Non è così. Se ne arrivo al 6 faccio doppia, eh? Ma io non volevo farmi full AP. Che cazzo. Che ne guardi him? Puoi guardare lui? E chi è lui? Drago? Pensavo che si desse un hit. Non mi neutri. Invece? Cazzo, Ione, io contavo su di te. 6-0-2. Dio buono. Luden first item. Oddio. Sai che me lo faccio davvero. Torrice, tu cosa faresti? Cioè nel senso, normalmente su Yumi cosa si fa? Ciao, dude angel! Normalmente su Yumi si fa questo qua o questo qua? La pietra, no? Quella verde. Ione fa schifo che ha dei conti del TP. Però Ione è al triplo del parma. Guarda di più qualcosa, no? Ok, ma su, ok. Allora, su Yumi si fa la buff orna che la vede di Ace. Sì, sì. Sì, sì, sì. No, 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 vabbè. Grazie, bel team di merda. Bel team di merda. Hai visto cosa è successo? No. Devi fare la clip. Così lo vedi. Buonasera. Ma sono tutti ubriachi! Raga, sono ubriachi fratici! Punta su Jax! Volevo puntare su di lui, ma ha flatto un flash! E vabbè! Beh! Questo parma non lo vogliono fare. Oh, porca! Devo rimpostare tutti i tasti. Comunicazione. Quanti tassi da rimpostare? Se non sbaglio, sì. Qua c'è un C. Devo mettere qua un N. Devo mettere qua un M. mio Dio, già qui. Va bene. Io vado back, visto che tu non vuoi andarci. Dovrebbe fare questa, in teoria, giusto? Eh sì! Ma il mio team servono le cure? Probabilmente sì! Vogliamo aiutarli? E fare i bravi? Aiutiamoli. Luden. Eh, infatti consiglierò anche questo. Però è il Penetrazione Magica che mi frega. Bene, andiamo con questo. Va benissimo. Aiutiamo Jax, raga. 2-0. È quello che promette di più. Pietro ne è appena morta. 1v2. Vado a giocare anche io che magari ne vinco qualcuno. Va bene, biscottimo. Eh, biscottimo ha visto la situazione su LicoFresh e ha detto Sono tutti ubriachi. Aspetta, aspetta che vado a farmi qualche game, va? Magari riesco a vincere anch'io. La volta buona contro gli avversari ubriachi vinco. Grande biscottino. Ottima tattica. Scusa, si è perso il Victus. Guarda nel replay. Ebbene, ottima partita. Io anche io devo prendere Expo quindi devo stare qua. Però vorrei aiutare Jax. Vai, vai, Jax. Ti aiuto. Eh, lì c'è una ward. Va bene. Oh, cari, io mi bello solo in pre-made, secondo me. Muoio. Ma, che è Trin? Volevo aiutare Jax. Ma è andato male. La cali è fiddata, sì. Peccato. Peccato forte. Il progetto è questo? Dai, Jax, andiamo insieme, va. Fuori di prendere 10 LP a game, in questa pre-season sono arrivato a gol 2 da G4, 0 LP. E tu che credevi che la mia disfettatura si sarebbe abbassata a causa della maratona? No, Dangel. Tu sei qui adesso, sono il 2. Sono ancora tutti svegli. Vediamo tra 5 o 6 ore. Chi c'è di voi qua? La corazza delle turni cadrà presto. I help the carry. Jax. Che schifo. Non vinceremo mai questa partita. Il mio team è ubriaco. Questo qui è all'11. Jax è all'8. Cosa fa questo? Che ingaggio era? Vai, vai. Mazzali tutti. Accetto la sfida anche se non è ubriaco che si fa. Cosa è successo? Juchic. Ok, grande, grande codice. Ok. Ok, vado mid. I go help Yone now. Questa partita, ragazzi. Qua sono partiti tutti. Altro che partita. Ma cosa stanno facendo? Ma tutti fuori di testa. Ma non è possibile. E vabbè. Che bella partita. Di merda. Allora, tutti i nemici cioè tutti sia noi che i nemici sono tutti ubriachi. Ovviamente sono ubriacati, raga. Sono ubriacati forti. Ma non è normale. Ma ha fatto flash sul muro da invis... Ma che sono sti flash? Un altro. Oh, andate via, andate via. Allora morite. Vi devo dire. Andiamo a fare questo cosa? Dove stiamo andando? Vai, che andare a mattino arrivo a platino. Ragazzi, sono impazziti tutti. Sono diventati matti. Jax, dovresti farmare. Sei al 9. Meli al 12. Sto pezzi, meli al 12. Grande Gerardo, buonasera. Sto giocando Yumi, ragazzi, perché è la penitenza di questa... dei 20 sub. ma breve cambierà gioco? No, perché? Non è che sono stanco, raga. Semplicemente guardo i miei compagni e penso... che rob. Che rob. Io mi è molto forte come champion, però bisogna avere almeno un teammate che sa giocare. Almeno uno. Loro hanno già eschefale le Q e ci uccide tutti. Chetelina è totalmente inutile. Meno male che non usano l'herald. Meno male che non usano l'herald. 17 minuti così open mid top. Sì, sì. Top stanno pushando, qua muoiono tutti. raga, purtroppo il team è quello che è, non ci possiamo fare nulla. Brava, Queen. Uhlala, Yurcici, eccolo qua. Vieni, abbiamo fatto una normal insieme con i sub. Vabbè, auguri. Più grossi se dopo fai flex con i sub dimmelo, mi raccomando. Ma non le spello al contrario, ragazzi, tutti quanti. Come facciamo? Non si può. Vabbè. Dopo la difendiamo, ragazzi. Hanno avuto la fortuna, ragazzi, di avere una miniera d'oro qua. Ci sono io che sto smarfando, ok? Sì, sto usando Yumi, però purtroppo loro non stanno sfruttando la cosa. Questa non deve uscire. Sì, Jax è Queen, però lui ha farm, ho capito? È l'unico decente col farm. No, ti muori! Urca, brava, ok, Queen mi è piaciuto un po'. Bot lane, stay on the fucking lanes. Ma, ragazzi, se voi avete perso top e mid così, come facciamo a stare bot? Cioè, la top è qua e ci dicono di difendere questa tole qua. Ma chi se ne fotte? non è importante. Qua non fanno nemmeno questo. Dai, Jax! Almeno tu, fammi questo regalo. Dai, Jax! Adesso capite perché non sono main Yumi? Perché è frustrante. Sto vi legge sulle legge? No, sto aspettando che arrivino i ragazzi di Viareggio per fare il reveal di Viareggio. di Viareggio. Dò ha, di vittima. E di vittima. Troia di merda Sono ti bro, ok là, grandissimo Io ci sono, gli altri non credo dove entrino Vabbè, guarda quante ore rimangono Tra undici ore, cioè domattina ci sono, perfetto Ragazzi, eh? Yumi main Non sono main Yumi Nessuno dice niente Una cosa bellissima, eh? Dove fanno cuore? Comunque, possiamo vincere Abbiamo preso due draghi, abbiamo 16,17 Perfetto Ora ragazzi, ma quanto è stata bella la partita di Evelyn Quella di prima della nostra Cioè, beh, insomma, avete capito Ciao ti bro Ehm, quanto è stata bella Che tipo, a un certo punto abbiamo visto la situazione Invece sono più forti di noi Scalano meglio, sai? Tutto qua, tutto meglio Probabilità di vittoria, 99% Praticamente Praticamente le ulti di Ione sono per scappare Non esiste che si ingacci L'ho visto fare dieci volte per scappare E una per ingaggiare Facciamo il cabianello al gatto Chi è da Ione, chi è il carry Chi è il carry Of this game? Noi Sono loro Noi Ok, siete voi Ma no, va bene, Chiocchi, secondo me Però ti strancherai presto, secondo me Di clipare così tanto Dai, dai Diamo, diciamo un po' Jax adesso Eh? Cominio non li facciamo più Dove stiamo andando, Jax? Ma dove stai andando? Tieni duro il TV domattina Sì, sì Tengo duro, tengo duro Lo sapevo che stavano accendendo il bar Ma non potevamo fare nulla Abbiamo il jungler bot A caso Così, lui stava facendo qua Aspettate, ho degli impegni bot Ragazzi, scusate Ma questo cosa fa? Ma in avanza scoperta Ma secondo te sono ancora lì? Conoscenza del gioco, raga Poverini Vabbè, ovviamente siamo in bronzo Sono ubriachi Comunque ragazzi Vi ricordo che oggi È uscita la Cioè, ieri ormai È uscita la Urgot Song Su YouTube Potete ascoltarla quando volete Sto morendo dalle risate Meno male Oddio Sono tutti fantastici, ragazzi A me fa morire da ridere Lo ammetto Sì, però Però Speravo anche Jack's play È l'onken twin E lo dice lui Che sta qua Mentre c'è il drago Do io Ragazzi Una mano Ma che cazzo Non so Sto è Q Caitlyn Go on your lane Please And defend Cioè per lui Bisogna ancora stare Tutti quanti Nella stessa lane Nelle lane di partenza Non si può E però Sei noob Alcuno venga qua Porca Puttana Perché Perché Dove sta Stava andando dritto Non guardano nulla Mi salvavo Che padre Stava andando in lane Giustamente Non c'era un fight lì No Noi dobbiamo andare Tutti nelle nostre lane Bravo Ottima scelta Ben ponderata Tutti Schifo Va bene Però non ho anche Syndra È vero Cioè sono dimenticato Quello Vai 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 Jax è il tuo momento Dimostrami che sei degno Te lo slow Saltagli in testa Come le troie No Dove stiamo andando Ok Andiamo di qua Mi piace Mi piace Ce lo facciamo Vai Jax Ottimo flash Ovviamente Vai Win Ma Siamo fermati Nepple drive Dai Ok Che disastro Che disastro Raga Questo team È un disastro Ok Abbiamo preso il drago Up Jax We took drake Together We are strong We are strong Yumi You are so useful Thanks Che carino I tried to help you As much As much As I could Be Let's see He's Passing Nye He's Curato Lui Ho attaccato Un nemico Gli ho dimesso Lo scudo Cazzo Non posso Migliorargli Le mani Però posso Aiutarli Sta arrivando Sta arrivando Dai Ci sono, ci sono Ci sono Vai Jax, spaccali tutti Dai, è bloccata come una puttana Bravo, in testa la bastonata Caitlyn difende e noi facciamo tutto Vai Qua, qua Vai, fai questi Dove sta andando, dove sta andando Uno difende, aiuto, aiuto, aiuto Mi fanno il culo No, non picchiatemi Mi prego No, basta, tirami bastonate sul culo Basta Mi prego Ok Siamo perdendo tutti gli inibitori ragazzi Ma cosa state difendendo, ma questa sta ferma l'immobile E' come se io faccio così E me ne vado Questo qua Cosa io Ma dai Partita Tutti mi sono persi volentieri Vabbè C'è Redemption pure Molto bene Molto bene Molto bene Oh mio dio Dove sta andando Quale vogliamo Vai vai Speedo Perché non vogliono mai inseguire nessuno Bellissimo Bravissimo Nessuno sta attaccando al Nexus Non ti preoccupare Continua a uccidere il minion Bravissimo Team di merda Katelyn Stava giocando ad altro Katelyn è un bot Proprio Katelyn era un bot Ho fatto quasi i suoi danni Mille danni in meno di Katelyn Ho fatto io Niente raga Che bel team di merda Juppie nice Vabbè Cose che capitano Qualcuno mi ha mandato la chiesta amicizia Sarà Jax Jax vuole giocare con una Yumi main Sono stata invitata Ragazzi ma perché Ma no Ma no Ehm